Allora, come sapete leggiamo oggi il canto diciottesimo del del Paradiso. Abbiamo concluso i cosiddetti canti di Cacciaguida, in cui si sviluppa l'incontro importantissimo tra Dante e il suo antenato, ma Cacciaguida è ancora in scena e quindi vediamo che cosa accade ora. Come al solito leggiamo tutto di seguito, poi riprendiamo per spiegare e a un certo punto facciamo una pausa per i vostri dubbi. Già si godeva solo del suo verbo, quello specchio beato, e io gustava lo mio, temprando col dolce l'acerbo, e quella donna che a Dio mi menava disse, muta pensier, pensa chi sono presso a colui che ogni torto disgrava. Così nel fiammeggiare del folgor santo, a chi io mi volsi, conobbi la voglia in lui di ragionarmi al coranquanto. Il cominciò. In questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia, spiriti son beati che giù prima che venissero al ciel fuor di gran voce, sicché ogni musa ne sarebbe opima. Però mira nei corni della croce, quello che io nomerò lì farà l'atto che fa in nube il suo fuoco veloce. Io vidi per la croce un lume tratto dal nomario Sue, come il Sifeo, ne mi fu noto il dir prima che il fatto. E al nome dell'alto Macabeo, vidi muoversi un altro roteando, e Letizia era perza del paleo. Così per Carlo Magno e per Orlando, due ne seguì lo mio attento sguardo, come occhio seguo il suo falcone volando. Poi ci attrasse Guglielmo e Rinoardo, e il Duca Gottifredi, la mia vista per quella croce, e Roberto Guiscardo. Indi, tra le altre luci, mo' temista, mostrò mi l'alma che m'avea parlato, qual era tra i cantori del cielo artista. Io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice il mio dovere, e per parlare operato, segnato, e vidi le sue luci tanto mere, tanto gioconde, che la sua sembianza vinceva gli altri e l'ultimo solere. E come per sentir più dilettanza bene operando, l'uomo di giorno in giorno s'accorge che la sua virtù ti avanza, si m'accorsi io che il mio girare intorno col cielo insieme avea cresciuto l'arco, veggendo quel miracolo più addorno. E qual è il trasmutare in piccio il varco di tempo in bianca donna, quando il volto suo si discarchi di vergogna il carco, tal fu negli occhi miei quando fui volto per lo candor della temprata stella, sesta, che dentro a sé m'avea ricolto. Io vidi in quella giovia alfacella lo sfavilar dell'amor che lì era, segnare agli occhi miei nostra favella. E come augelli surti di rivera, quasi congratulando a loro pasture, fanno di sé ortonda o altra schiera, si dentro ai lumi sante creature volitando cantavano e facessi ordi oriorelle in sue figure. Prima cantando a sua nota moviensi, poi, diventando l'un di questi segni, un poco s'arrestavano e tacensi. O diva Pegasea, che gli ingegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le città dei regni, illustrami di te, sicch'io rilevi le loro figure com'io lo concette, paia tua possa in questi versi brevi. Mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti, e io notai le parti sì, come mi parverdette. Diligite justitiam, primai, fur verbo e nome di tutto il dipinto, cui udicati sterram, fu senzai. Poscia, nell'emme del vocabol quinto, rimasero ordinate, sì che Giove pareva argento l'idoro distinto. E vidi scendere altre luci dove era il colmo dell'emme, e liquetarsi, cantando, credo, il benchia a selle move. Poi, come nel perpuoter di ciocchiarsi, surgono innumerabili faville, onde gli stolti soli onarburarsi, risorger par per quindi più di mille luci e salir qual assai e qual poco, siccome il sol che l'accende sortille. E, quietata ciascuno in suo loco, la testa e il collo d'una guglia vidi, rappresentare a quel distinto foco. Quei che dipigne lì non ha chi il guide, ma esso guida, e da lui si rammenta quella virtù che è forma per gli nidi. L'altra beatitudo, che contenta pareva prima di incigliarsi all'emme, con poco moto seguitò l'imprenta. O dolce stella, quali e quante gemme mi dimostraro che nostra giustizia effetto sia del cel che tu ingemme. Perch'io prego la mente in che si inizia tuo moto e tua virtù, che rimiri onde esce il fummo che il tuo raggio vizia. Sì, che l'un'altra fiata o mai sa diri del comperare e vender dentro al templo che si murò di segni e di martiri. O milizia del cel cui io contemplo, ad ora per color che sono in terra tutti sviati dietro al malo essemplo. Già si solea con le spade far guerra, ma or si fa togliendo or qui or qui vi lo panche il pio padre a nessun serra. Ma tu che sol per cancellare scrivi, pensa che Pietro e Paolo, che moriro per la vigna che guasti, ancor son vivi. Ben potu dire, io fermo il disiro sia colui che volle vivere solo e che per salti un tratto al martiro, che io non conosco il pescator né polo. Allora, vi ricordate che la chiusura del canto che abbiamo letto la settimana scorsa era nelle parole di Cacciaguida questo discorso molto lungo e molto importante circa da una parte l'esilio che attende Dante in terra e compreso in esso l'ospitalità cortese, liberale, generosa che lui riceverà da parte di Can Grande della Scala e poi a proposito di una domanda di Dante su che cosa fare con l'appreso durante il viaggio nell'aldilà l'investitura poetica centrale di tutto il viaggio in cui Cacciaguida ha indicato a Dante che deve denunciare tutto e che questo grido suo sarà degno di onore perché colpirà di più i più potenti. Quindi, avendo sentito queste parole, la condizione di Dante è quella di star cercando di mitigare l'acerbo, cioè l'amaro, con il dolce, cioè di darsi animo pensando che nonostante lo attenda questo futuro imminente, terribile dell'esilio lo attende anche un grande onore, la gloria del paradiso e nell'esilio stesso anche la protezione degli scaleggeri. E quindi inizia questo canto confrontando la condizione di Cacciaguida con quella di Dante stesso. Già si godeva solo del suo verbo, quello specchio beato, cioè Cacciaguida già godeva delle parole che aveva appena detto, quello specchio beato, specchio della conoscenza divina e io gustava lo mio temperando col dolce l'acerbo, cioè io assaporavo il mio, cioè le parole che riguardavano il discorso appena fatto da Cacciaguida che era nel mio pensiero, mitigando, temperando l'acerbo dell'esilio, col dolce. Ora qui è tradizionale da parte della critica confrontare appunto il verbo godere che si attribuisce a Cacciaguida che gode di beatitudine e quello, il verbo gustare che invece implica questa miscela di gusti incrociati insomma che Dante sta provando. E infatti è interessante come lo vedremo nell'ultimo canto Dante parlerà di quanto gode, cioè di come anche lui ha raggiunto ormai la condizione psichica dei salvati, in cui niente offusca il godimento di Dio. E poi è anche interessante qua, come abbiamo notato tante volte, il termine dolce che è una parola chiave della poetica dantesca. Ricorderete che nel canto 24 del Purgatorio è stato addirittura definito come dolce, stil novo la poetica che avevano tirato fuori il Dante Giovani insieme ad altri compagni toscani e che spesso il dolce è collegato appunto con la giustizia divina. Ne abbiamo parlato, non so se vi ricordate, la settimana scorsa a proposito di questa immagine della dolce armonia di un organo che Cacciaguida paragona con la sua visione dell'esilio che si prepara a Dante. Avevamo commentato appunto che il piano infinitamente giusto di Dio sembra di essere proposto come analogia a un'armonia nella quale la vita individuale di ogni essere vivente che sarebbe nell'analogia corrispondente alla singola melodia compone comunque e cioè nonostante l'apparente ingiustizia e senz'altro ingiustizia dal punto di vista degli uomini che implica l'esilio di Dante, il fatto che lui accusato ingiustamente appunto come Ippolito verrà cacciato da Firenze è comunque parte di un piano provvidenziale che è necessariamente buono e giusto e che non a caso viene diciamo caratterizzato come dolce armonia. Questa parola dolce vedremo tornerà nel canto appunto associato alla giustizia. Allora Dante sta pensando a tutto quello che l'attende cercando di mitigare l'amarezza dell'esilio con le buone notizie che gli sono state annunciate e Beatrice al verso quarto è quella donna che a Dio mi menava disse muta pensier pensa chi sono presso a colui che ogni torto disgrava cioè cambia pensiero dice Beatrice che non a caso viene caratterizzata come la donna che mi menava a Dio ciò che mi stava portando a Dio in qualche modo attraverso questa perifrasi si ricorda che nonostante Dante nel cielo di Marte vedendo Beatrice per la prima volta avesse sentito di toccarlo fondo della sua gloria del suo paradiso manca ancora un tragitto per arrivare a Dio e Beatrice appunto ricorda Dante che lei e quindi anche Dante perché lei lo sta portando lì è già ormai vicina a Dio appunto colui che disgrava ogni torto cioè la cui giustizia rivelazione toglie la gravezza il senso di torto subito di ingiustizia che Dante può star provando nei confronti del suo imminente esilio questa parola disgravare è molto è molto ben scelta no come ogni parola in Dante del resto perché Dante aveva detto a cacciaguida quando aveva posto diciamo seguendo le indicazioni di Beatrice in parole audibili la sua costernazione di fronte alle profezie che aveva ricevuto che gli erano state dette in nell'inferno nel purgatorio parole gravi no c'era questa parola grave che chiaramente anche nella nostra lingua odierna sia in italiano che in spagnolo ha questa connotazione negativa vero di triste serio e che vi ricordate era anche stata come come sostantivo associata alla lupa nella selva no questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscìa di sua vista che io perdei la speranza dell'altezza quindi già dal primo canto la gravezza è opposta alla speranza vero e quindi Beatrice in qualche modo invita Dante a recuperare la speranza dell'imminente visione di Dio che disgrava che toglie ogni gravezza e allora Dante sentendosi parlare si volge per la prima volta delle quattro che farà secondo ciò che si racconta in questo canto verso Beatrice verso 7 io mi rivolsi all'amoroso suono del mio conforto e qual io allora vidi negli occhi santi amor qui l'abbandono allora Dante si gira verso il suono amorevole no questa parola amoroso è molto importante perché appunto nel verso 9 quindi diciamo immediatamente dopo quello che Dante vedrà negli occhi di Beatrice chiaramente è l'amore di Dio quindi le parole che Beatrice sta trasmettendo a Dante sono chiaramente diciamo originate dalla carità e quindi Dante sentendosi parlare si volge al suono amorevole e qui Beatrice viene anche significativamente all'usa come il mio conforto perché effettivamente sta confortando Dante dando gli nuove forze e il poeta insomma interrompe qua la narrazione finora diciamo stava focalizzando il punto di vista sul narratore che aveva fatto il scusate sul pellegrino che ha fatto il viaggio ora interrompe la narrazione passa dal punto di vista del Dante scrittore che anni dopo sta scrivendo questa scena e dice come io vidi in quel momento l'amore negli occhi santi quindi il riflesso dell'amore di Dio negli occhi di Beatrice qui l'abbandono cioè come scrittore mi rassegno a non dirlo e non dirlo e ora giustifica perché non perché io pur del mio parlare di fidi ma per la mente che non può redire sovra se tanto s'altri non la guidi cioè non soltanto perché io non mi fidi della capacità del mio parlare cioè non perché io insomma sia consapevole dell'insufficienza della mia parola umana per dire quell'amor divino che era riflesso negli occhi di Beatrice ma anche per la memoria che non può rifare la strada redire vuol dire riandare tanto sopra se stesso se se stessa la memoria la mente se non è guidata da altri cioè se non la guida un raggio di grazia eccezionale che infatti è quello che accadrà a Dante come vedremo nell'ultimo canto del paradiso di fronte di nuovo al grado massimo di ineffabilità davanti al quale si trova come scrittore gli verrà in aiuto appunto la grazia ma in questo momento diciamo Dante attraverso poi questi due verbi che c'erano già nel primo canto del paradiso ci sta avvertendo che l'amore di Dio negli occhi di Beatrice sono tra le cose che che diciamo Dante non può recuperare nemmeno con la memoria essendo tornato al mondo e avendo inevitabilmente recuperato la sua condizione limitata di mortale vi ricordate che nel primo canto del paradiso proprio la primissima cosa che si dichiara la gloria di colui che tutto muove nell'universo penetra risplende in una parte più e meno altrove e poi Dante annuncia nel ciel che più della sua luce prende fuio e vedi cose che ridire ne sa né può chi di lassù discende e appunto poi chiarisce che non solo per la per la mancata parola ma perché quando il nostro intelletto si profonda tanto la memoria non può dire dietro questo cammino trasumanato che aveva fatto allora quindi chiaramente in quel passaggio Dante confessava che lui era stato nell'empireo cioè nel cielo che più prende della luce che è gloria di Dio dell'universo e che quindi certe cose non le potrà raccontare perché nemmeno le ricorda e siccome ci stiamo avvicinando anche se mancano alcuni cieli fisici prima di arrivare a questo posto annunciatoci fin dall'inizio l'amore di Dio negli occhi di Beatrice in un momento particolarmente significativo per Dante come quello in cui gli appena stato dichiarato il suo destino si vedono con una tale intensità che tra quelle cose che in qualche modo vengono accomunate a quelle che Dante vide nell'emperio che non può ricordare una volta tornato dal viaggio e quindi abbandona la descrizione quindi fa un salto ma prima ci dice quello che si può ricordare e al verso 13 lo fa tanto possio di quel punto ridire che rimirando lei lo mio affetto libero fu da ogni altro disire cioè questo la sola cosa che posso dire io di quel punto è che contemplando lei Beatrice chiaramente il mio affetto fu libero da ogni altro desiderio finché il mio affetto fu libero da ogni altro desiderio quindi evidentemente Beatrice con le sue parole e diciamo facendo rivolgere lo sguardo di Dante verso i suoi occhi dove era riflesso l'amore di Dio aveva diciamo ottenuto diciamo lo scopo prefissatosi cioè che Dante dimenticasse i bali che lo attendono ma nel contempo è accaduto qualcosa che in realtà non dovrebbe succedere a questa a questa altezza del viaggio perché Dante dice che il piacere eterno cioè Dio che irradiava direttamente in Beatrice accontentava lui cioè lo appagava attraverso il bel viso di Beatrice e quindi Dante non desiderava più di vedere Dio direttamente esperienza che eccezionalmente sa che gli è stata concessa ma si appaga con il secondo aspetto cioè con il riflesso dell'amore di Dio e quindi continua a contemplare Beatrice senza desiderare di salire ancora perciò Beatrice sorridendo fa sì che Dante non possa più sostenere lo sguardo di lei e guardi altrove e lo fa con questa mossa davvero notevole anche di seduzione di queste che Beatrice non perde mai nemmeno essendo diventata questa donna santa è il simbolo della teologia al verso 19 vincendo me col lume di un sorriso ella mi disse volgiti e ascolta che non porne ai miei occhi è paradiso meravigliosa terzina che è con grande semplicità prima sorride Beatrice il fatto che Dante dica che questa luce del sorriso di Beatrice vince lui implica che ha dovuto spostare lo sguardo perché altrimenti insomma sarebbe stato accecato dall'intensità della luce e nel contempo lei sorridente gli dice volgiti cioè girati non continuare a vedere i miei occhi che vabbè questo verso 21 non ha bisogno di parafrasi cioè sta annunciando che Dante deve vedere il resto del paradiso e questo è interessante perché probabilmente è legato diciamo all'investitura che ha appena ricevuto cioè Cacciaguida ha appena detto a Dante che le anime che a lui sono diciamo sono state date vedere nell'inferno nel purgatorio nel paradiso non diciamo non li ha visti soltanto per lui ma soprattutto per noi lettori perché come ha detto Cacciaguida le anime famose sono le sole che diciamo riescono a innescare un apprendimento significativo e quindi è come se Beatrice con questa semplicità questo dono di sintesi che dal Dante poeta si travasa nella sua voce gli dicesse guarda che tu anche se ti accontenti col guardare me hai una missione da svolgere quindi devi vedere il resto del paradiso che diciamo Dante aveva detto che già prima gli era sembrato di toccare il fondo della sua gloria del suo paradiso individuale Beatrice gli sta dicendo guarda che questo paradiso è comunitario e che il viaggio che tu stai facendo è per trasmettere l'intera esperienza del paradiso che Dio vuole che tu trasmetta nel libro quindi non devi guardare solo me e allora al verso 22 evidentemente Dante distoglie lo sguardo dalla sua donna e ritorna a parlarci di Cacciaguida che effettivamente è ancora lì e vuole ancora conversare con Dante verso 22 come si vede qui alcuna volta l'affetto nella vista se li è tanto che da lui sia tutta l'anima tolta così nel fiammeggiare del folgor santo a chi io mi volsi con obbi la voglia in lui di ragionarmi ancora alquanto cioè così come qua nel mondo qualche volta negli occhi degli altri si vede l'affetto e quindi il movimento affettivo se questo affetto è così intenso che tutta l'anima sia presa da esso nello stesso modo in come fiammeggiava no? Cioè in questa luce ora più intensa del folgor santo cioè la luce santa di Cacciaguida alla quale Dante evidentemente si rivolse quando non tollerò più la luminosità del sorriso di Beatrice con obbi cioè capì la voglia che lui aveva di parlare ancora un po' con me e allora il verso 27 riprende il discorso Cacciaguida ma ormai non parlerà con Dante delle sorti individuali di Dante ma farà diciamo una cosa più comune del paradiso perché tutto il dialogo precedente come sapete è stato eccezionale e Cacciaguida farà vedere a Dante quali sono le anime più importanti del cielo di Marte dove lui stesso si trova e che forse ricorderete conformano una croce no? Croce tutta fatta di luci le luci sono appunto le anime da cui dal cui braccio era sceso Cacciaguida per avvicinarsi a Dante allora il verso 28 il cominciò in questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia spiriti son beati che giù prima che venissero al cielo fuori di gran voce sicché ogni musa ne sarebbe opima allora questo è il modo attraverso il quale Cacciaguida annuncia che andrà nominando alcune anime che sono nella croce è molto significativo intanto appare questa immagine molto bella tradizionale scritturale dell'albero capovolto cioè lui per riferirsi al cielo di Marte questo quinto cielo lo chiama in questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia cioè sta dando l'idea che il paradiso è un albero le cui radici sono Dio perché è quello che gli dà la vita e quindi sono in alto a differenza degli alberi del mondo e che i diversi cieli sono diversi strati di rami però che quell'albero che chiaramente rappresenta l'eternità dà sempre frutti e non perde mai foglia come invece fanno gli alberi del mondo ecco questa questa immagine dell'albero che diciamo che vive dalle radici superiori ricorda tra l'altro l'albero capovolto del paradiso terrestre non so se ricordate che Dante diciamo nel era già capitato nella cornice dei golosi che aveva visto questi alberi che avevano diciamo la coppa fatta a triangolo invertito con la punta verso il basso e la parte più larga verso l'alto e che così è anche l'albero dell'Eden da cui provengono appunto questi alberi della sesta cornice che è niente di meno che l'albero della scienza dal quale hanno mangiato Eva e Adamo quell'albero aveva spiegato Beatrice nell'Eden rappresenta la giustizia la giustizia divina e infatti appunto nella seconda parte del canto forse l'avrete avvertito durante la prima lettura Dante insieme alla sua donna ascenderà al cielo di Giove dove incontrerà gli spiriti giusti e quindi attraverso questa metafora dell'albero capovolto che vive sempre ci ricorda l'idea di giustizia che è già stata all'usa attraverso la dolcezza diciamo è il disgrava della giustizia divina cui si era riferita Beatrice prima allora Cacciaguida sta dicendo in questo cielo di Marte di questo albero che vive della cima perché è Dio che lo vivifica ci sono spiriti beati che giù cioè nel mondo prima che venissero al cielo fu fuor di gran voce cioè ebbero grande fama così tanta che ogni musa sarebbe sazia avrebbe sufficiente materia per poetare questo è interessante perché diciamo noi sappiamo che perché l'abbiamo detto ma non è stato diciamo detto esplicitamente finora ma solo all'uso attraverso la partecipazione di Cacciaguida stesso alle crociate ma l'abbiamo detto che è lo spirito di Marte è lo spirito, il cielo di Marte è quello dove Dante incontrerà le anime che sono state più influsse da questa stella e che sono stati spiriti militanti per la fede quindi il fatto che siano famosi è notevole no perché non sono né scrittori né artisti ma mi sembra interessante che qui venga associato il tema della fama a quello della militanza proprio successivamente all'indicazione di Dante di sopportare le conseguenze della sua denuncia perché è come se Cacciaguida che gli ha detto che la sua vita si infutura molto più al di là della punizione dei suoi nemici e questo verbo infuturarsi coniato da Dante avevamo detto che secondo la maggior parte dei commentatori si riferisce alla fama che avrà Dante molto duratura di cui noi stessi siamo testimoni chiaramente una fama legata non alla bellezza dei suoi versi ma o non soltanto ma la bellezza dei suoi versi che sono versi caratterizzati nel canto scorso come grido come denuncia è una militanza cioè lui come cristiano deve lottare no e quindi la fama che deriverà da questo non è la fama soltanto diciamo di una poesia bella ma di una poesia profetica ispirata a Dio per portare a termine la militanza che secondo Dante ci vuole nel mondo nella vita del mondo che è una guerra vero? Allora Cacciaguida ha detto ci sono anime di famosi qua quindi guarda al verso 34 sta sempre parlando Cacciaguida però mira nei corni della croce quello che io nomerò lì farà l'atto che fa in nube il suo fuoco veloce cioè tu mentre io parlo dice Cacciaguida guarda nel braccio nei bracci della croce man mano che io nominerò qualcuno quel qualcuno si muoverà come un lampo a volte attraversa una nuvola e allora qui inizia l'elenco degli spiriti militanti per la fede che va nominando Cacciaguida verso 37 io vidi per la croce un lume tratto dal nomare Josue come il sifeo mi fu noto il dir prima che il fatto cioè io vidi che un lume cambiava posto mentre Cacciaguida nominava Josue cioè il successore dei Moise nella guida degli ebrei verso la terra promessa immediatamente non appena si fece questo nome né Conobi che si muoveva prima di sentirne il suono del nome cioè sono contemporanei perfettamente coincidenti il nome di ogni personaggio in bocca di Cacciaguida con il suo muoversi velocemente nella croce e al verso 40 e al nome dell'alto Maccabeo vidi muoversi un altro roteando e Letizia era la fezza del paleo cioè è in contemporanea con il nome di Giuda Maccabeo quello che diciamo liberò il popolo e il popolo ebraico dalla tirannide dei re di Siria come venne nominato lo vidi dice Dante muoversi roteando cioè facendo giri e la fezza del paleo il paleo è come una trottola cioè un gioco che gira e che gira appunto tirando da una fezza da una diciamo vi ricordate la parola fezza con la quale si sferza un cavallo per esempio quindi è una metafora per dire che quello che faceva roteare questa luce nella quale c'è Giuda Maccabeo e la Letizia che si comportava come nel paleo la fezza che è quello che lo faceva roteare quindi che vuol dire questo che le anime che si sentono nominate da caccia guida si muovono per la felicità di essere mostrate a Dante quindi finora i due personaggi che sono stati mostrati a Dante da caccia guida sono diciamo personaggi che lottarono per la liberazione degli ebrei vero? ora passiamo a un momento più vicino della storia al verso 43 così per Carlo Magno e per Orlando due ne seguì lo mio attento sguardo com'occhio segue suo falcone volando cioè così il mio sguardo attento seguì altri due nominate chiaramente da caccia guida per Carlo Magno e per Orlando e io li seguì come l'occhio del falconiero segue il volo del proprio falcone bellissima analogia Carlo Magno vi ricordate quando abbiamo letto il sesto del paradiso come nella in bocca diciamo dell'imperatore giustiniano che ha raccontato la storia dell'impero vi ricordate attraverso questa allegoria dell'aquila che va passando da una mano nell'altra che sono i diversi imperatori come lui aveva stabilito la continuità appunto tra l'impero carolingio e quello diciamo romano precedente chiaramente Carlo Magno è il fondatore di questo impero il sacro impero romano germanico che per Dante continua la missione provvidenziale dell'impero d'Augusto e qui è insieme si muove insieme a Orlando al celebre suo nipote il paladino che trovò la morte a Roncisvalle che venne ricordata vi ricordate nel canto trentunesimo dell'inferno a proposito del corno che suona lì in un'analogia si ricorda questo corno insomma che annuncia la morte di Orlando poi al verso 46 poscia trasse Guglielmo e Rino Ardo e il duca Gottifredi la mia vista per quella croce e Roberto Guiscardo allora questo Guglielmo e il duca d'Orange sempre dello stesso della stessa storia carolingio carolingia quindi un grande consigliere di Carlo Magno e Rino Ardo era questo saraceno enorme che era stato convertito al cristianesimo che aveva seguito Guglielmo appunto nell'esercito dei cristiani e il duca Gottifredi è il duca di Lorena che aveva insomma guidato una crociata quindi passiamo alla difesa del diciamo al recupero della terra promessa da parte dei crociati unendo in qualche modo la vicenda di queste anime con quella di Cacciaguida stesso che vi ricordate aveva ricordato come dal martiro venne a questa pace e Roberto Guiscardo invece il figlio di questo Tancredi d'Altavilla quindi che aveva ereditato i possedimenti del sud Italia e aveva fondato lo stato normanno e hanno avvicinato in qualche modo all'Italia di Dante gli ultimi personaggi nominati e quindi Dante va seguendo con la vista come queste anime si muovono come luci in un lampo nella croce man mano che Cacciaguida le nomina e dopo Cacciaguida dopo aver saziato insomma il suo bisogno di nominare le anime più importanti più famose che popolano questo cielo di Marte almeno circostanzialmente affinché Dante li veda lì torna a cantare come cantava prima di interrompersi per venire diciamo incontro ai bisogni del discendente e Dante lo dice così al verso 49 Indi tra le altre luci mota e mista quindi quindi cioè dopo aver detto questo e tra le altre luci movendosi e mescolandosi mostrò Milalma che avea parlato qual era tra i cantori del cielo artista quindi torno a cantare e mi mostrò quanto cantasse bene in mezzo ai suoi compagni di beatitudine quindi qui veramente finisce l'episodio di Cacciaguida sebbene diciamo noi abitualmente consideriamo che il canto 17 è quello che conclude la vicenda personale di Dante e con queste parole di Cacciaguida che abbiamo appena letto possiamo dire che finisce la presenza della storia degli uomini nel paradiso cioè avendo già Dante capito qual è la sua vicenda personale e qual è il suo destino da ora in poi il paradiso che percorrerà sarà popolato invece dai santi e non ci sarà più il ricordo come c'è stato finora di personaggi che aggirono nel mondo di queste anime famose che appunto come ha chiarito Cacciaguida debbono insegnare a noi lettori le conseguenze di ciò che facciamo in vita e allora siccome Cacciaguida ha ripreso il canto e si è rimescolato alle anime della croce Dante ha capito che non parlerà più con lui e al verso 52 fa quello che fa di solito cioè si rivolge a Beatrice io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice il mio dovere o per parlare o per atto segnato cioè io mi girai affinché Beatrice mi dicesse che cosa dovevo fare ora che Cacciaguida era tornato alla croce e che me lo dicesse o indicandomelo con un atto attraverso le parole e vidi le sue luci tanto mere tanto gioconde che la sua sembianza vinceva gli altri e l'ultimo solere cioè rivolgendosi a Beatrice vede che gli occhi di Beatrice sono così puri mere così gioiose che il suo aspetto vinceva gli aspetti che aveva avuto finora e anche l'ultimo quello che soleva avere e l'ultimo era quello che Dante non aveva potuto descrivere vi ricordate che aveva detto come io vidi negli occhi santi amor quell'abbandono lei è ancora più ineffabile ancora più bella più pura e allora Dante voi probabilmente avete già intuito che Beatrice e Dante sono su un cielo superiore perché è già capitato che la bellezza di Beatrice ha cresciuta sia il segno visibile del fatto che si trovano in un cielo più alto e qui Dante dirà appunto questa cosa attraverso una bellissima e molto significativa analogia verso 58 e come per sentire più dilettanza bene operando l'uomo di giorno in giorno s'accorge che la sua virtù ti avanza si mi accorsìo che il mio girare intorno col cielo insieme avea cresciuto l'arco vedendo quel miracolo più addorno allora Dante dice come noi nel mondo per sentire maggior diletto quindi maggior piacere quando operiamo il bene quando facciamo buone opere ci accorgiamo di giorno in giorno che la nostra virtù sta crescendo cioè così come dal piacere che proviamo per operare il bene ci accorgiamo che stiamo diventando più buoni è molto bella questa analogia perché dà per scontato che la virtù comporta allegria e che quindi man mano che si fanno buone azioni si è più felici ma Dante non lo dice diciamo attraverso una proposizione morale diciamo col valore universale ma lo dà per scontato come un'osservazione psicologica del suo vivere nel mondo cioè così come capiamo che stiamo diventando più virtuosi perché godiamo sempre di più delle azioni buone che facciamo così verso 61 io mi accorsi che il mio girare attorno alla terra insieme al cielo aveva ha cresciuto l'arco perché effettivamente si sta allontanando dalla terra mi accorsi di questo vedendo Beatrice cioè quel miracolo più addorno più bello e al verso 64 e qual è il trasmutare in piccio il varco di tempo in bianca donna quando il volto suo si discarchi di vergogna il carco tal fu negli occhi miei quando io fu volto per lo candor della temprata stella sesta che dentro a sé ma ve ha ricolto bellissima immagine Dante ci sta dicendo che è salito da un cielo rosso che era perché lui era dentro il pianeta Marte a uno argentato bianco come appunto il cielo di Giove secondo la descrizione che lui stesso ne fa nel convivio e per rendere la velocità con la quale vide come il rosso che lo circondava diventò bianco si serve di questa bellissima metafora della donna che in poco tempo in piccio il varco trasmuta una donna che è bianca no? che è bianca come carnagione quando è diventata rossa per la vergogna e subito diciamo si discarica di vergogna e quindi riprende il suo viso bianco solito cioè così come una donna che è diventata rossa ridiventa bianca così diciamo successe negli occhi di Dante quando si gira a causa del candore bianco appunto della stella temperata sesta cioè Giove che mi aveva accolto dentro di sé come capita ogni volta che Dante sale a uno di questi cieli dominati dai pianeti dico che è interessante l'immagine della donna perché diciamo Dante si era accorto qui ce lo sta dicendo in un modo successivo ma chiaramente sono cose che lui ha percepito simultaneamente ha visto che la sua donna è più bella e quindi ha pensato siamo in un nuovo cielo e quindi si gira e vede che tutto è bianco quello che era rosso prima e si accorge che da Marte è salito a Giove ma tutto questo è successo in un attimo nella mente e negli occhi di Dante e appunto questa questa metafora della donna che da rossa diventa bianca suggerisce come lui ancora nella memoria fissa l'immagine di Beatrice più bella come se l'immagine della donna rimanesse anche quando lui vede il pianeta Giove che è bianco e quindi diciamo Dante riconosce quantitativamente dall'accrescimento della bellezza di Beatrice il fatto di aver cambiato cielo e dal modificato colore si rende conto che ormai non è più dentro Marte ma è dentro questo pianeta argentato allora riprendiamo vedo che la chat è vuota quindi o non avete domande o non state capendo proprio niente che è sempre il rischio quando non ci sono domande riprendiamo dal verso 70 Dante appena capito che è stato ricevuto dalla stella di Giove dove insomma incontrerà come ora si capirà gli spiriti giusti quelli in cui è prevalsa la giustizia il senso di giustizia grazie qualcuno mi dice che è molto chiaro grazie allora leggiamo dal 70 io vidi in quella giovial facella lo sfavillar dell'amor che lì era segnare agli occhi miei nostra favella qui inizia questo spettacolo di cui vi dicevo del tutto sorprendente allora dice io dentro questa facella gioviale quindi dentro questa stella di Giove io vidi che l'amore che era lì cioè le anime che erano lì come al solito come luci segnavano davanti ai miei occhi la nostra favella cioè la nostra parlata uno si starà domandando come cioè come formavano lingua umana le anime non parlando che mi hanno fatto finora tutte le anime bensì attraverso diciamo gli occhi di Dante viene percepita questa favella e per spiegarci come succedeva questa cosa Dante riprende un'immagine della Farsalia di Lucano che descrive i disegni che fanno gli uccelli nel cielo è una cosa diciamo che evidentemente attirava molto l'attenzione di Dante bisogna sempre ricordare che per i medievali il cielo era qualcosa di molto più visibile rispetto a quanto non lo sia per noi diciamo oggi attraverso i palazzi delle grandi città e Dante si servirà di questa immagine degli uccelli che fanno diversi disegni volando tutti insieme per spiegare come si conformavano le luci davanti ai suoi occhi verso 73 e come augelli surti di rivera quasi congratulando a loro pasture fanno di sé or tonda or altra schiera si dentro ai lumi sante creature volitando cantavano e facienzi or di ori orelle in sue figure allora come uccellini che salgono dall'acqua quasi condividendo la gioia per aver mangiato fanno una schiera tonda o in un'altra forma quindi fanno disegni in cielo così nello stesso modo dentro ai lumi cioè dentro le luci le sante creature che sono le anime dei salvati mentre volavano cantavano e si facevano cioè formavano anziché una schiera tonda o di un'altra forma ora una D ora una I ora una L nelle loro figure e Dante ora ci spiega con grande chiarezza come riesce a cogliere queste lettere che formano tutte le luci insieme prima cantando a sua nota moviensi poi diventando l'un di questi segni un poco si arrestavano e taciensi cioè prima si muovevano cantando al ritmo del canto poi una volta che formavano uno di questi segni la D la I la L tacevano e si arrestavano quindi rimanevano fermi formando la D in silenzio in modo che a Dante sia chiaro che hanno formato questa lettera poi cominciavano di nuovo a volare e cantare formavano un'altra lettera tacevano fermi in quella posizione affinché Dante vedesse un'altra lettera e nella memoria l'associasse a quella che avevano fatto prima e così via e siccome Dante come scrittore è consapevole di star narrando una cosa del tutto inedita insolita pensate che per noi che ci siano diciamo nell'era dell'elettricità pensare a lettere formati da luci non è una cosa tanto stupefacente perché siamo abituati ai cartelli luminosi vero? ma Dante sta descrivendo una cosa inaudita per sé e per gli altri e quindi interrompe la narrazione per esclamare al verso 82 o diva Pegasea che gli ingegni fai gloriosi e rendili longevi ed essi te con le città dei regni illustrami di te sicch'io rilevi le loro figure com'io lo concette fai a tua possa in questi versi brevi cioè Dante chiede aiuto alla musa non sappiamo esattamente a quale perché la chiama diva Pegasea cioè la parola deriva da Pegaso il cavallo alato che insomma fece sorgere nel monte delle muse la fonte di ispirazione poetica e quindi o musa che fai gloriosi gli ingegni e li rendi longevi cioè che ispiri gloriosamente gli ingegni umani e li fai diventare durevoli nella memoria degli altri illuminami di te in modo che io possa descrivere le figure di queste lettere che facevano le anime così come io li ho concette li ho concepite li ho viste che appaia o musa la tua possa cioè il tuo potere la tua forza in questi versi brevi cioè Dante chiede aiuto alla musa per dire in un modo diciamo fedele e comprensibile questo formarsi di parole attraverso le lettere che facevano volando le anime luminose sul cielo di Giove e al verso 88 mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti e io notai le parti sì come mi par verdette cioè furono formando cinque volte sette vocali e consonanti e io andavo prendendo appunti delle parti per ottenere parole con un senso e non semplicemente lettere sciolte e ora Dante dice appunto quale frase formavano le lettere attraverso le parole diciamo volando diligite giustiziam primai fur verbo e nome di tutto il dipinto cioè scegliete la giustizia chiaramente in latino furono i primi le prime parole il verbo il sostantivo di tutto il dipinto questo comincia qua il primo versicolo del libro della sapienza biblico che appunto vuol dire amate la giustizia predileggete la giustizia e adesso arriva chi deve farlo al verso novantatré cui giudicati sterram funsezzai cioè voi che giudicate nella terra quindi che avete potere di emettere giudizio nella terra furono i sezzai cioè il verbo e il nome conclusivi allora qui diciamo se nessuno l'ha avvertito si capisce che gli spiriti giusti che Dante vedrà nel cielo di Giove sono diciamo quelli particolarmente legati al potere nella terra cioè che la predilezione della giustizia chiaramente deve essere in tutti i cuori umani ma soprattutto chi governa chi ha il potere di sanzionare deve diciamo amare particolarmente la giustizia e adesso come se questo non bastasse succede un'altra cosa l'ultima lettera che hanno formato perché non bisogna dimenticare che Dante non vede mai questa frase scritta tutta ma vede la D la I la L un'altra I la G eccetera l'ultima lettera che è stata formata e che ha permesso che Dante riconoscesse questo versicolo biblico e la M cioè il il morfemma tipico di accusativo latino con il quale era finita la frase terram vero? e ora vediamo che cosa succede con questa M ma per capire la metamorfosi che qui avrà luogo bisogna ricordare che questa M è un M gotica cioè è un M disegnata con una lista in mezzo un paletto e due diciamo archi ai lati che arrivano allo stesso livello della riga dove finisce appunto il paletto centrale quindi dovete avere in mente questo disegnino della M per capire quello che accade ora verso 94 poscia nel M del vocabol quinto rimasero ordinate sì che Giove pareva argento lì d'oro distinto cioè poi rimasero ordinate tutte le luci dove sono le anime nell'M del quinto termine vocabolo in modo che Giove sembrava argento ricamato d'oro bellissime immagini cioè come se fosse un gioiello il pianeta Giove argentato e la M siccome fatta delle luci delle anime sono dorate come puntini sull'argento del pianeta e ora al verso 97 e vi discendere altre luci dove era il colmo dell'M e lì quietarsi cantando credo il ben che a se le muove cioè vedi che altre luci che evidentemente prima non c'erano scendevano e facevano nel colmo dell'M cioè nel paletto interno del mezzo facevano crescere questa parte dell'M quindi più luci scendevano scendevano dall'Empireo per mettersi sopra il paletto interno dell'M e lì rimanevano senza muoversi cantando dice Dante credo cioè celebrando con il canto il bene di Dio che muove queste anime a sé e al verso cento un'immagine stupenda di queste quotidiane che di cui Dante si serve per rendere qualcosa di così straordinario come quello che lui vide in cielo siccome quello che adesso narrerà è che le anime di alcune parti dell'M si scompongono per andare a occupare altri posti fa il paragone con diciamo quando noi siamo davanti a un falò e prendiamo due ciocchi cioè due pezzi di legno arsi e li facciamo di solito con un palo per non bruciarci ma li facciamo scontrarsi e da questo scontro vengono fuori molte scintille che escono da questo scontro questo che tutti noi abbiamo fatto qualche volta nella vita attorno a un falò o addirittura in un asado forse nel medioevo era abitudine che diciamo la gente ingenua un po' pagana potremmo pensare lo facesse per diciamo per augurarsi la fortuna che avrebbe avuto cioè incrociavano due ciocchi a seconda della quantità di scintille che venivano fuori si auguravano la ricchezza o la povertà che li attendeva nel tempo futuro quindi Dante in questo paragone fa riferimento a questa credenza leggiamo verso 100 poi poi come come nel percuotere di ciocchiarsi surgono innumerabili faville onde gli stolti sogliono augurarsi risorger parver quindi più di mille luci e salir qual assai o qual poco siccome il sol che l'accende sortille e quietata ciascuno in suo loco la testa e il collo di una guglia vidi rappresentare a quel distinto foco allora così come si diciamo si toccano tra loro due chiocci innumerevoli favilli faville cioè scintille sorgono di cui gli stolti la gente non molto intelligente di solito fa gli auguri cioè si augura un tempo migliore o peggiore al parvero quindi che risorgevano cioè salivano le luci da questa soprattutto poi capiremo dalla lista della M che prima arrivava fino al bordo diciamo inferiore al quale arrivano anche gli archi che sono ai lati evidentemente le luci che formavano questa lista salgono come scintille di due chiocchi e salgono molto poco a seconda dell'amore di carità cioè del sole che l'accende li ha distribuiti e ognuna si mette di nuovo quieta nel proprio posto che il centro rispetto ai due archi ma la parte superiore e ingrossano probabilmente anche gli archi in modo che Dante riesce a vedere il disegno di un'aquila qui è il momento in cui ci manca la lavagna chiaramente ma perciò vi avevo chiesto di fare lo sforzo di immaginare la M gotica in cui ora diciamo già erano scese dopo la formazione di questa M che era l'ultima lettera della parola terra erano scese altre altre luci per ingrossare la parte superiore della lista interna ora alcune cominciano a muoversi facendo diventare il disegno di un'aquila cioè in cui la testa è la parte diciamo del mezzo e le due ali sono quello che erano i due archi che conformavano la M spero che si capisca credo che in alcuni commenti in quello di Chiavacci Leonardi credo che ci sia il disegnino insomma di questi momenti chi di voi ce l'ha lo può vedere e credo che appunto sulle note che ci sono nel sito della Dartmouth dove potete leggere questo commento ci siano questi disegni per chi di voi non ce l'ha molto in chiaro il fatto è che Dante sta assistendo sicuramente diciamo stupito al formarsi come uccelli che si muovono nel cielo di queste anime che sono che lui le vede come luci prima questa frase attraverso le diverse lettere di Ligite Giustiziam finché non si fermano sulla M finale e poi l'M comincia a diventare un'aquila l'aquila come noi sappiamo bene almeno fino almeno diciamo dal canto di Giustiniano è il simbolo dell'impero che è l'istituzione come dice Dante sia nella commedia che nel convivio che nella monarchia la cui funzione provvidenziale è quella appunto di garantire la giustizia nel mondo affinché l'essere umano possa essere felice durante questa prima vita quindi evidentemente la giustizia che è stata appena richiamata dal versicolo biblico e che è appunto quello che caratterizza l'influenza maggiore della stella Giove viene immediatamente associata attraverso questa metamorfosi della M che non è altro che la M di monarchia nell'aquila che è la rappresentazione appunto dell'impero impero e monarchia in Dante sono sinonimi va bene allora Dante insomma ha visto un'aquila formata da tutti questi puntini di luce che sono le anime e ora fa questa osservazione al verso 109 quel che dipinge lì non ha chi guidi ma esso guida e da lui si rammenta quella virtù che forma per gli nidi allora che ci sta dicendo Dante qua quello che dipinge là cioè l'autore di questa opera d'arte che cui Dante sta assistendo chiaramente è Dio no quello che dipinge là perché è l'amore di carità quello che muove le anime a conformare questo disegno non ha qualcuno che glielo insegni che lo guidi o che sia il suo esempio cioè qua Dante sta dando per scontato una tradizione importantissima e lunghissima della nostra storia secondo cui chi impara un'arte o un mestiere lo fa sotto la guida di un maestro e qui sta dicendo quello che dipinge lì non ha avuto un maestro perché è Dio lui stesso guida e da lui si rammenta cioè si deriva la virtù che poi conforma le acuile nei nidi del mondo cioè che ci sta dicendo Dante che quell'aquila che lui ha visto non è la copia che un artista fece delle acuile che vive che vediamo noi nel mondo cioè non è mimesi di qualcosa del mondo come sono i quadri che fanno i pittori umani che prendono un viso umano e cercano di copiarlo sta dicendo il contrario sta dicendo quell'aquila che io stavo vedendo è l'archetipo platonico da cui derivano le singole acuile che vivono nel mondo che sono esemplari individuali e imperfetti corruttibili di quell'aquila ideale che c'è in cielo e questa osservazione ha chiaramente una portata importante simbolica perché vuol dire se l'aquila rappresenta l'impero vuol dire che la giustizia che l'impero deve garantire in terra è la rappresentazione imperfetta della giustizia divina che deriva dal cielo si capisce? Allora al verso 112 l'altra beatitude che contenta pareva prima di ingigliarsi all'emme con poco moto seguitò l'imprenta cioè il resto delle anime beate che prima sembrava di essersi accontentata di ingigliarsi alla emme cioè di ingrossare l'emme come se fosse il segno del giglio con poco movimento seguì l'aspetto la stampa dell'aquila scusate che vedo ah qualcuno dice che grazie che si capisce e qua diciamo Dante il Dante il Dante poeta il Dante scrittore che è tornato al mondo comincia un'esclamazione e ormai si centra da ora in poi dal verso 115 fino alla fine del canto Dante interrompe la narrazione la descrizione di quello che aveva visto per esclamare come lui capì che la giustizia umana non è che una derivazione imperfetta da quella divina e quindi da questa costatazione comincia a pregare che Dio guardi come la giustizia nel mondo non stia funzionando e va cambiando il tono come ora vedremo da preghiera alla denuncia al sarcasmo con il quale si chiude il canto in contrasto con la bellezza della giustizia che lui vide come oro su argento in Giove allora al verso 115 o dolce stella quali e quante gemme mi dimostraro che nostra giustizia effetto sia del cielo che tu ingemme o dolce stella chiaramente la stella dolce è Giove di nuovo appare l'aggettivo dolce vi ricordate che era apparso all'inizio del canto quando Dante diciamo mitigava la cerbo col dolce questa volta nella stessa terzina dove si parla appunto della giustizia perciò io avevo fatto quel discorso all'inizio della lezione o dolce stella di Giove stella della giustizia appunto quante e che belle gemme che sono appunto le anime Dante vede come luci mi dimostrarono che la nostra giustizia del mondo è un effetto del cielo di Giove che tu abelli con la tua gemma per chi io per cui siccome Dante deriva questa questa preghiera dalla constatazione che in terra sia una manifestazione parziale in ombra della giustizia divina e quindi prega al verso 118 per chi io prego lamenti in che si inizia tuo moto e tua virtute cioè prego Dio che la mente che è all'origine del tuo movimento cioè sta parlando sempre a Giove e la tua forza la tua virtù prego che tu Giove rimiri onde esce il fumo che il tuo raggio vizia cioè che tu guardi da dove esce il fumo che sporca che offusca il tuo raggio luminico di giustizia cioè il Dante scrittore ricordando la bellezza del segno della giustizia in Giove prega Dio che Giove individui dove si è sporcato nella terra il passaggio tra la giustizia divina e la giustizia nel mondo e questo onde adesso si specifica come di solito Dante fa nella curia romana corrotta che non a caso nei canti precedenti è stata responsabilizzata del suo esilio vi ricordate che Cacciaguida aveva detto a Dante che lui come Ippolito ha dovuto lasciare Atene lui dovrà lasciare Firenze e che questo si sta già organizzando là dove Cristo tutto dissimerca cioè nella curia romana dove si commercia si vende Cristo tutti i giorni e quindi Dante ora fa riferimento al verso 121 appunto alla corruzione della chiesa sì che un'altra fiata ormai sa diri del comperare e vendere dentro al templo che si murò di segni e di martiri cioè in modo che cioè io prego Dio che Giove guardi il posto dove la giustizia divina si è offuscata e sta rovinando il mondo affinché un'altra volta quando succederà di nuovo si adiri cioè diventi iracondo si arrabbi del comprare e vendere cioè del commercio che si sta facendo nella chiesa cioè nel tempio che costruì le sue mura con miracoli e martiri vedete con quale dono di sintesi Dante mette in parole una storia di decadenza della chiesa che fu fondata con il sangue dei martiri e con i miracoli di Gesù e che ora è diventato un mercato dove si guadagnano soldi e al verso 124 continua il Dante poeta o milizia del ciel cui io contemplo adora per color che sono in terra tutti sviati dietro al malo esempio cioè o milizia del cielo in cui io contemplo ancora oggi cioè Dante è come se avesse conservato la visione che ebbe della milizia del cielo quindi dei salvati e la ricordi con gli occhi della mente continua a contemplarla in questa preghiera che sta facendo mentre scrive il libro prega cioè intercedi per colore che sono in terra e che si sono tutti disviati seguendo il cattivo esempio della curia romana perché vi ricordate che diciamo secondo Dante la cupidigia che sta macchiando papi e cardinali ha rattristato il mondo perché questo rattristato il mondo sto citando il canto 19 dell'inferno quello dedicato appunto ai simoniaci che è quello che si sta ricordando qua il commercio con le cose divine e come abbiamo visto proprio nel mezzo del poema nel canto 50 dei 100 cioè il sedicesimo del purgatorio Marco Lombardo in risposta alla domanda di Dante cioè Dante vi ricordate che nella nella cornice dell'ira in mezzo a un fumo molto denso incontra questo personaggio italiano delle corti del nord Italia Marco Lombardo che si presenta dicendo io diciamo conobbi il mondo e ha mai quel valore al quale ormai tutti hanno disteso l'arco cioè non lo guardano più che è il valore appunto della cortesia e Dante dice a proposito cioè io sto capendo da quello che mi viene detto e ora lo raddoppio con la tua sentenza che il mondo è un disastro che è totalmente privo di virtù perciò vorrei sapere se le cause di questo disastro sono nei movimenti dei cieli o bisogna cercarle qua nel mondo dice Dante nella montagna del purgatorio che fa parte del mondo e dopo un sospiro attraverso la constatazione che Dante viene dal mondo e quindi è cieco come il mondo Marco Lombardo conferma il valore del libero arbitrio e dice se diciamo le cose nel mondo succedessero per necessità perché condizionate dai movimenti dei cieli non ci sarebbe giustizia nel dare lutto per un peccato e dare gioia per una virtù come tu effettivamente questo non lo dice Marco ma è implicito come tu come pellegrino stai vedendo che effettivamente è nell'aldilà quindi Dio non sarebbe giusto perché starebbe punendo gente che semplicemente fa quel che può non quel che vuole e allora in questa difesa del libero arbitrio in termini filosofici Marco Lombardo vede un corollario politico che aggiunge dicendo Roma soleva avere due soli e attraverso questa figura dei due soli sta parlando dell'impero e del papato io sto scomodando Marco Lombardo perché sono le autorità che vengono qua diciamo criticate da Dante ma dice purtroppo il papa si è è diventato ghiotto di beni materiali quindi chiaramente diciamo se il pastore sbaglia dove può andare a finire il gregge ed effettivamente lui dice perciò vedi che la mala condotta cioè la conduzione peccaminosa ha rovinato il mondo perciò Dante dopo adesso torno a questo canto dopo aver detto spero che Giove insomma si adiri nei confronti di coloro che stanno commerciando nel tempio che si costruì di miracoli e di martiri immediatamente passa alle conseguenze cioè prega per il popolo che si è disviato cioè che ha preso la cattiva strada seguendo il brutto esempio del papa e non a caso con lo stesso sintagma già si soleano come aveva detto Marco al verso cento ventisette già si solea con le spade far guerra ma or si fa togliendo or qui or qui vi lo pan che il pio padre nessun serra cioè ricordando chiaramente gli spiriti militanti per la fede che gli sono stati presentati da pochissimo da cacciaguida in Marte Dante esclama prima è un prima idealizzato la guerra si faceva con le spade e quindi probabilmente sta pensando alle crociate non sarebbe la prima volta che rimprovera i papi di non imbandire crociate e invece di litigare con altri cristiani ma ora si fa guerra dice togliendo da qui e da lì l'alimento spirituale cioè il pane che Dio non nega a nessuno probabilmente qua Dante si sta riferendo alle scomuniche che diciamo lanciava la chiesa e che poi diciamo revocava per soldi uno dei grandi affari della chiesa dell'epoca contro i quali Dante diciamo si scaglia ma e ora cioè sta dicendo prima con le spade si faceva una guerra nobile ora per guadagnare dei soldi si fa guerra ai credenti togliendolo togliendoli dall'eucaristia cioè dal pane spirituale che Dio non rifiuta nessuno e ora al verso 130 cambia vocativo Dante prima parlava alla bella la dolce stella di Giove ora comincia a parlare a un papa corrotto secondo alcuni commentatori a Giovanni ventiduesimo il papa francese di Caor insomma contro il quale Dante si scaglia più volte secondo altri è un tu generico che si riferisce a un qualsiasi papa corrotto e allora gli dice al verso 130 ma tu che sol per cancellare scrivi pensa che Pietro e Paolo che moriro per la vigna che guasti ancora sono vivi allora tu che scrivi e poi cancelli col gomito quello che hai appena scritto qui diciamo non si sa molto bene a che cosa si riferisce Dante attraverso questo diciamo questa frase se appunto alle scomuniche che poi si revocavano per denaro se alla cancellazione dei benefici che aveva dato prima Clemente V e che questo Giovanni XX aveva cancellato o se alla scelta dei vescovi che spesso cambiavano per ottenere reddito mentre i vescovati erano vacanti ci sono diversi forse a tutto questo insomma Dante sta dicendo a un papa che il cambiamento delle decisioni cioè il carattere effimero delle decisioni solo danno soldi che si fanno per essere revocate allora tu che per cancellare e scrivi pensa che Pietro e Paolo che morirono per la vigna che tu stai guastando la vigna è immagine biblica della comunità dei credenti quindi della chiesa ancora sono vivi cioè non credere che perché la loro carne è morta non ci sono più terribile che a qualche papa diciamo si debba ricordare questa cosa e ora si passa come vi annunciavo prima negli ultimi versi al sarcasmo perché qua Dante fa una cosa veramente notevole dal punto di vista retorica retorico dalla voce in discorso diretto a questo papa che sta insultando e mette nella bocca di questo papa parole davvero sconcertanti dal punto di vista della mancanza di rispetto e della dissacrazione rispetto dei grandi santi cristiani verso 133 ben puoi tu dire cioè tu puoi dire tranquillamente e ora viene diciamo la voce che Dante immagina ci sia in questo papa io offermo il disiro sia colui che volle vivere solo e che per salti fu tratto al martiro che io non conosco il pescator ne polo siccome Dante ha detto Pietro e Paolo sono vivi è vero dice tu mi potresti rispondere e vedete che cosa mette in bocca al papa io ho il mio desiderio il mio affetto così vivo nei confronti di Giovanni Battista nominato attraverso veramente una perifrasi sprezzante colui che volle vivere solo cioè come se diciamo la strada del Battista nel diserto fosse una scelta insomma voglio passare un tempo per le mie cose e che per salti fu tratto al martiro anche questa parola salti che fa riferimento all'episodio della danza di Salomeno e quindi all'immagine terribile biblica della testa di Giovanni Battista sul vassoio allora questo io diciamo direbbe secondo Dante questo papa io amo così tanto quello che voleva vivere solo e che fu portato al martiro per salti che io non conosco quel pescatore che sarebbe San Pietro né Polo che sarebbe un modo peggiorativo di parlare di San Paolo ora perché diciamo Dante mette in bocca immaginativamente le parole di questo in riguardo a Giovanni Battista perché Giovanni Battista l'immagine il ritratto di Giovanni era stampato sul fiorino d'oro che è la moneta terribile per Dante simbolo della corruzione del mondo non solo della sua città perché era la moneta forte di scambio in tutta l'Europa che appunto aveva siccome Giovanni Battista è il padrono di Firenze aveva questo ritratto e quindi sarcasticamente sta dicendo tu mi potresti dire io amo tanto Giovanni Battista che significa il fiorino d'oro che non ho mai sentito parlare di quel pescatore quel polo di cui mi parli tu che mi dici che sono vivi terribile immagine del Papa corrotto con cui si chiude un canto che ha innalzato in bellezza la giustizia invece del cielo di Giove con questi contrasti che sono tipici del paradiso dantesco in cui in occasione della bellezza la pace in questo caso la giustizia del paradiso Dante militante avente una missione di denuncia ricorda per contrasto appunto la condizione terribile del mondo dove gli è toccato di vivere lo rileggiamo un canto bello vero pieno di cose interessanti grazie ci vediamo allora per chi deve scappare la settimana prossima con un canto anche questo stupendo il diciannovesimo già si godeva solo del suo verbo quello specchio beato e io gustava lo mio temprandolo con il dolce lacerbo e quella donna che a Dio mi menava disse muta pensier pensa chi sono presso a colui che ogni torto sgrava io mi rivolsi all'amoroso suono del mio conforto e qual io allora vidi negli occhi santi amor qui l'abbandono non per chi oppur del mio parlare di fidi ma per la mente che non può ridire sovra se tanto s'altri non la guidi tanto possio di quel punto ridire che rimirando lei lo mio affetto libero fu da ogni altro disire finché il piacere eterno che diretto raggiava in Beatrice dal bel viso mi contentava col secondo aspetto vincendomi col lume d'un sorriso ella mi disse folgiti e ascolta che non pur nei miei occhi è paradiso come si vede qui alcuna volta l'affetto nella vista che lì è tanto che da lui sia tutta l'anima tolta così nel fiammeggiare del folgor santo a chi io mi volsi con obbila voglia in lui di ragionarmi ancora alquanto e il cominciò in questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre mai non perde foglia spiriti son beati che giù prima che venissero al ciel fuor di gran voce sicché ogni musa ne sarebbe opima però mira nei corni della croce quello che io nomerò lì farà l'atto che fa in nube il suo fuoco veloce io vidi per la croce un lume tratto dal nomario suè come il sifeo ne mi fu noto il dir prima che il fatto e al nome dell'alto vacabeo vidi muoversi un alto roteando e le tizie la ferza del paleo così per Carlo Magno e per Orlando due ne segui lo mio attento sguardo come occhio segue suo falcone volando pociatrasse Guglielmo a Rinoardo e il duca Gottifredi la mia vista per quella croce a Roberto Guiscardo inti tra l'altre luci motte mista mostrò mi l'alma che mi avea parlato qual era tra i cantor del cielo artista io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice il mio dovere o per parlare o per atto segnato e vidi le sue luci tanto mere tanto gioconde che la sua sembianza vinceva gli altri l'ultimo solere e come per sentire più dilettanza bene operando l'uomo di giorno in giorno s'accorge che la sua virtù ti avanza si m'accorsì che il mio girare intorno col cielo insieme avea cresciuto l'arco veggendo quel miracol più addorno e quale il trasmutare in piccio il barco di tempo in bianca donna quando il volto suo si discarchi di vergogna il carco tal fu negli occhi miei quando fui volto per lo candor della temprata stella sesta che dentro a sé m'ave ricolto io vidi in quella giovial facella lo sfavillar dell'amor che lì era segnare agli occhi miei nostra favella e come augelli surti di rivera quasi congratulando a loro pasture fanno di sé or tonda or altra schiera si dentro ai lumi santi creature volitando cantavano e facenzi or di or i o relle in sue figure prima cantando a sua nota movienzi poi diventando l'un di questi segni un poco s'arrestavano e tacenzi o diva pegasea che gli ingegni fai gloriosi rendili longevi ed essi teco le città dei regni illustrami di te sicchio rilevi le loro figure come io le concette fai a tua posse in questi versi brevi mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti e io notai le parti si come mi par perdette diligite justitiam primai fur verbo e nome di tutto il dipinto cui judicati sterram fusse zai poscia nell'emme del vocabol quinto rimasero ordinate sì che giove pareva argento lì d'oro distinto e vidi scendere altre luci dove il colmo dell'emme e liquetarsi cantando credo il ben che a se le move poi come nel per quater di ciocchiarsi surgono innumerabili faville onde gli stolti sogliono augurarsi risurger pare per quindi più di mille luci e salir quale assai e quel poco siccome il sol che l'accende sortille e quietata ciascuna in suo loco la testa e il collo d'una guglia vidi rappresentare a quel distinto fuoco quei che dipinge lì non ha chi il guidi ma esso guida e da lui si rammenta quella virtù che forma per gli nidi l'altra beatitudo che contenta pareva prima di ingigliarsi alle emme con poco moto seguitò l'imprenta o dolce stella quali e quante gemme mi dimostraro che nostra giustizia effetto sia del cel che tu ingemme per chi io prego la mente in che si inizia tuo moto e tua virtute che rimiri onde esce il fumo che il tuo raggio vizia si che un'altra fiato mai sa diri del comperare e vender dentro al templo che si murò di segne di martiri o milizia del ciel cui io contemplo adora per color che sono in terra tutti sviati dietro al le spade far guerra ma or si fa togliendo or qui or qui vilo panche il mio padre nessun serra ma tu che sol per cancellare scrivi pensa che Pietro e Paolo che moriro per la vigna che guasti ancora sono vivi ben poi tu dire io fermo il disiro sia colui che volle viver solo e che per salti fu tratto al martiro che io non conosco il pescator Nepolo grazie dell'attenzione ci vediamo la settimana prossima